Ciao! Seconda parte del video! Allora, come stavo dicendo, qui ho sviluppato già tutto e tutto lì. Adesso mancano solo queste due tasche. Allora, questo è un po' difficile da aprire perché ci sono le cerniere proprio dentro. C'è il portamerende, non c'è il granché. Ecco appunto, il portamerende. Si apre, ci sono dei fazzoletti perché a scuola avevo mangiato la giovedina. C'era l'acqua. Questa taschina qua con l'unicorno. Mascherina che ho buttato perché era sudata, siamo usciti fuori. Mascherina nuova, un po' bassinale. Vabbè, non fa niente. Ah, è crema igienizzante perché le mie mani sono tutte screpolate per il gel. Quindi questo è un disinfettante e si aprema. Questo è un disinfettante normale però con la custodia. Accennio. Ehm, lì ci sono tutte le cose che ci hanno messo nel baino. E vuoto. Se volete vedere altri video come questi, iscrivetevi al canale, cliccate... La campanellina. Ciao! Ciao!